gentili telespettatori buona giornata in europa francia e germania stanno riproponendo la operazione sofia che sarebbe l'operazione sofia bis che cinque anni fa fu cancellata da salvini un'operazione che coinvolga l'europa l'unione europea l'unione africana e anche l'onu che abbia un impegno militare in mare e uno gestito prevalentemente dalle nazioni unite sulla terra la scorsa settimana durante i due giorni del consiglio europeo di giovedì e venerdì l'emergenza migranti è stata sostanzialmente snobbata dai leader dell'unione europea zero risposte si è parlato di a giugno ne riparliamo ecco si è detto a giugno ne riparliamo ma che cosa sarebbe questa operazione sofia che è naturalmente un lacronimo di un nome molto lungo di forza navale dell'unione europea nel mediterraneo centrale ecco è stata un'operazione di militare di sicurezza marittima lanciata dall'unione europea che opera nel mediterraneo centrale è stata attiva fino al 2020 e poi sostituita dall'operazione irini l'operazione era stata avviata dopo i naufragi dell'aprile 2015 lo scopo dell'operazione era quello di neutralizzare le consolidate rotte della tratta di migranti nel mediterraneo del appunto di quel tempo è durata quindi da praticamente cinque anni da aprile 2015 a marzo 2020 quindi lo scopo era quello di avviare sforzi sistematici per individuare catturare distruggere le navi ed attrezzature utilizzate o sospettate di essere utilizzate da contrabbandieri e trafficanti di migranti questa operazione è stata giudicata un contributo fondamentale alla lotta contro l'instabilità della regione mediterranea e un modo per ridurre la perdita e i problemi in mare e aumentare la sicurezza dei cittadini europei questa operazione successiva quella mare nostrum che era del 2013 del governo italiano e all'operazione di controllo frontiere triton dal primo febbraio 2018 poi chiamata operazione temis dell'agenzia frontex nel 2014 allora questa operazione sofia in che cosa consiste la prima fase è quella della sorveglianza la valutazione delle reti di contrabbando e traffico di esseri umani la seconda fase dell'operazione prevede la ricerca e se necessario diversione di navi sospette la terza fase consente lo smaltimento delle navi delle reattive attrezzature preferibilmente prima dell'uso di fermare i trafficanti e i contrabbandieri ma insomma si parla di trafficanti ma realmente le partenze oggi non non sono gestite da trafficanti o scafisti al soldo dei trafficanti abbiamo visto che dalle ultime testimonianze queste barche vengono fatte guidare da quello che ha meno soldi quello che non si può pagare il viaggio gli danno gli dicono questa è la barca si fa più o meno così vai pertanto oggi se fermi una barca di disperati non c'è sopra nessun criminale c'è quello che guida la barca che può essere indicato come il cattivo quello che gli diamo 30 anni di carcere alla fine però non fa parte effettivamente di una organizzazione criminale ma è nella maggior parte dei casi un disperato che non aveva i soldi per il viaggio viaggia gratis però guida la barca quindi un'operazione sofia che cosa dovrebbe fare in realtà non è non è un'operazione che serva per fermare le partenze sono delle navi un gruppo navale che lì ma che realmente non non è che respinge niente o nessuno sorveglia valuta prevede diversioni di navi sospette navi sospette sono tutte barchette di legno quindi non che cosa deve fare una portaerei come la nave la nave garibaldi per esempio l'incrociatore portaerei garibaldi della marina militare era era a capo dell'operazione sofia che cosa doveva fare una portaerei a capo di un gruppo navale di fronte a delle barchette di legno niente assolutamente niente è una presenza militare per sorvegliare non si sa bene che cosa perché che ti sequestri il cellulare del del finto scafista che hanno messo a guidare la barca perché non aveva soldi per pagarsi il viaggio diciamo che questa potrebbe essere un uno specchietto per le allodole che l'europa fa ecco mette su questa questa missione che non serve assolutamente a niente ecco perché salvini l'aveva bocciata perché non serviva assolutamente a nulla quindi l'europa può ipocritamente mettere in piedi sta roba chiamiamola proprio così sta roba che non serve a niente mettiamo gli incrociatori che incrociano perché l'incrociatore incrocia per fare che niente consumare carburante per nulla ecco pertanto credo che questa potrebbe essere un qualcosa per far finta che l'europa si stia interessando si fa sta missione così dice l'italia sei contenta abbiamo facendo sta missione finito lì ma la meloni invece chiede un un blocco navale europeo che ovviamente e chiaramente non succederà mai vedremo come potremmo andare avanti quali saranno le prossime le prossime notizie quindi germania e francia che sono ipocriti all'inverosimile no con le finte ridistribuzioni loro che finanziano le ng ripropongono st'operazione sofia che non serve assolutamente a niente serve solo a dire noi siamo a posto con la coscienza l'italia aveva bisogno abbiamo fatto questa operazione cosa dobbiamo fare in più ecco ma tutti sanno che queste operazioni sono state sospese perché non servivano assolutamente a nulla no metti lì un incrociatore portaerei a incrociare in mezzo alle barchette di legno arrivederci a tutti e grazie 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 grazie